Andreozzi, immagino soddisfatto dopo questa prima uscita, una partita vera, la nostra nazionale è riuscita a tenere testa ad avversari quotati. Contentissimo di tutto, dell'organizzazione, della qualità della partita, dell'intensità della partita che credo che anche da fuori sia stata bella da vedere. I ragazzi sono stati eccezionali, ci siamo visti alle 6 di oggi, ci siamo detti ok tu giochi qua, tu giochi qua, tu giochi là, ci siamo presentati e per la prossima volta ci organizzeremo ancora meglio facendo anche qualche allenamento che sarà ancora più divertente. Però io faccio i complimenti a tutto perché secondo me questo è proprio un bel evento, io ci ho divertito tantissimo. Ecco, uno spot davvero per tutto il circuito e possiamo dire che è la prima di una lunga serie di iniziative. Questa idea della rappresentativa, aiutata chiaramente anche da te, da tutta l'organizzazione, secondo me è un bel momento. Rigiocheremo a fine marzo contro una rappresentativa dei ragazzi maliani e sarà un altro bel momento di calcio, di sport e speriamo che questa cosa possa poi avere gambe, come si dice, per poter fare iniziative non soltanto a Roma, magari anche fuori, insomma vediamo quello che succede, però è una bella cosa. Ma poi anche proprio da un punto di vista dell'aggregazione tra i ragazzi che si conoscono e poi quando si affrontano anche in campionato, insomma i rapporti, il clima, migliora tutto. È proprio lo spot del tuo torneo, vogliamo dire così, come si dice, avversari sempre nemici mai, io lo sottoscrivo chiaramente, è bello perché proprio quei ragazzi che magari si sono incontrati e magari hanno fatto contrasti durissimi nell'ultima giornata di campionato, oggi si ritrovano a giocare insieme, si sono aiutati, si sono aiutati tantissimo e questa è l'unica cosa che poi gli abbiamo chiesto. Cerchiamo di aiutarci anche perché chiaramente è una selezione di ragazzi che sa giocare bene a calcio, ma soprattutto di ragazzi molto in gamba. Grazie Daniele anche a te per la passione e per come hai organizzato la squadra in condizioni anche difficili in pochissimo tempo. Grazie, grazie a voi, è stato molto divertente, buona serata, buon lavoro.